Come va, sorellina? Sono stata stupida, c'era questa... bambina piccola, una... cazzo di bambina piccola. Con un coltello. Su, aiutami. Forza! Dai, andiamo. Merda. Un altro branco. Stiamo qui, è finita. Dobbiamo salire sul tetto e fermare un elicottero. Aspetta, ci serve aiuto, è ferita. Che ne è successo? Non è di quelle cose là fuori, è una coltellata. Qui siamo pieni. Ok, ascolta, O'Brien, se non la portiamo subito in ospedale, morirà di sicuro. Non ci sono più ospedali. Se ne sono, avete dottori, infermieri, è l'unità mesh. Senti, io sono solo un dottorando, ok? Sono un volontario, non dovrei neanche essere... O'Brien! Va bene, merda. Ho posto solo per due, ok? Due! Che vorresti dire solo per due? Siamo oltre il carico massimo, posso prendere solo due persone. Forza, aiutami, dai. Ehi, tesoro. È tutto ok. Andrà tutto bene. Faccio io. Ehi. Torno prima di subito. Ok, Buser, andiamo. Dobbiamo salire. Saliamo sull'elicotter. C'è posto solo per due in quel cosa. Vai. Va con lei. Me la capirò. Le ho viste di peggio, lo sai. Vero? Sì, anche io. Dove andate? Cosa? Dove? Dove? Campo profughi, a ovest del Trippinger Jack. Buser non ce la farà mai senza di me. Lo rivolgo indietro. Vieni o no? Muoviamo oggi. No. No, si è andato a vedere. No. Dick! Oh, merda. Cosa hai fatto? No.